La tutela delle vittime vulnerabili è una priorità per le forze di polizia. Così si è pronunciato il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, all'inaugurazione della casa di Imma, Castellammare di Stabia, un divano blu che diventa un letto, una casa all'interno del commissariato di polizia di Castellammare per chiunque denuncia episodi di violenza e abbia bisogno di un luogo dove restare al sicuro. Imma, la donna a cui è intitolata questa piccola oasi, è stata uccisa nel 2018 a Bosco Reale, ma resta viva nei nostri ricordi, ha detto commossa la dirigente del commissariato, Amalia Sorrentino. All'inaugurazione c'è stato assieme al procuratore di Napoli, Luigi Riello, anche il questore Giuliano, che ha commentato così l'attività delle forze dell'ordine in merito sul territorio. La tutela delle vittime vulnerabili è un elemento chiave della nostra attività, detto Giuliano, e viene svolta sia utilizzando operatori altamente specializzati che fanno questo in pianta stabile, sia accogliendo le persone che subiscono e che vogliono denunciare, in aree come questa appena inaugurata. Sulla pericolosa diffusione degli episodi di violenza di genere, ecco le parole del questore Giuliano. Tratta di reati che purtroppo hanno un trend di crescita e che per questa ragione ci impongono un grande impegno, sia sotto il profilo della nostra professionalità e dell'adeguamento dei nostri ambienti per accogliere in modo appropriato queste persone che prendono una decisione difficilissima come quella di denunciare. Ma c'è anche un altro versante che non dobbiamo mai dimenticare, che è quello culturale. E anche per questa ragione noi siamo presenti in ogni iniziativa, anche negli istituti scolastici, perché vi sia una maggiore consapevolezza di genere.